Sì, i piloti e i pazienti in fondo vogliono comunque portarsi qui vicino, sentire anche qualche bozzolina, è stato un bel passo, e andrà in bordo, non so perché si è parlato a festival, ma... mamma mia, non ce n'è per nessuno, mi hanno detto che era un po' incattivito con le situazioni di prima, guardate cosa fa, lo spazio ha visto, sono veramente bravi, avete visto come si sono messi a dondolare, a danzeggiare come due ballerine sulle punte, grandiosi, è il nostro amico, è lui, il campione italiano del drift, deve staccare addirittura il volante, come la Formula 1, festival, Emanuele, vieni, vieni, qua vicino al pubblico che ti vuoi vedere, quando gli voglio essere, è una calma, è una tranquillità, su quella parola lì da 580, è un vetato,